Maestro Nannissale, Presidente dell'Associazione Progetto Farfalla di Nuoro, nel fine settimana gli atleti della società parteciperanno al campionato italiano di Judo per la categoria esordiente B. Un risultato importante è quello di portare degli atleti a una manifestazione di livello nazionale. Sì, si sono svolte le qualificazioni la settimana scorsa ed erano uno degli obiettivi più grandi che avevamo durante l'anno. Le qualificazioni sono arrivate dopo una preparazione dei ragazzi a degli stage che abbiamo fatto durante l'estate, dove siamo andati a Baia Domizia, dove siamo andati a Ischia, dove siamo andati in Slovenia. E finalmente siamo riusciti poi a coronare questi grandi sacrifici, fatti di impegni, fatti di viaggi, fatti di giorni spesi, ad allenamenti anche importanti. Le abbiamo coronate appunto con la qualificazione di Gabriele Secchi nella 38 kg. È un gran bel risultato per noi, è un gran bel risultato per Nuoro, anche perché siamo l'unica società di Nuoro che è riuscita a qualificarsi con un ragazzo. Quindi speriamo di coronare bene questo appuntamento, portando anche Nuoro nel judo che conta, che è uno degli obiettivi principali che ci siamo sempre posti. È uno degli obiettivi principali anche per questa città che ha bisogno anche di atleti che non per forza devono provenire dal calcio o dal basket o dalla pallavolo, dove militano comunque in campionati che contano. Vogliamo esserci anche noi e stiamo facendo di tutto per esserci.